Buonasera a tutti e benvenuti all'ultimo appuntamento con l'informazione di Calabria News 24. Abbiegato e spaccio di droga le accuse per 19 arrestati tra la Calabria e la Sicilia. I carabinieri di Ragusa, su delega della Didia di Catania, hanno eseguito 19 misure cautelari in carcere e oltre 30 decreti di perquisizione per traffico di stupefacenti e abbiegato tra la Calabria e la Sicilia. L'indagine ha permesso di accertare i legami instaurati da Cosa Nostra di Vittoria e Comison e Ragusano con esponenti delle endrine calabresi della Piana di Gioia Tauro e con esponenti della famiglia mafiosa Fragapane di Sant'Elisabetta in provincia di Agrigento, il cui capoclan Salvatore Fragapane è detenuto in quanto condannato all'ergastolo per la scomparsa e l'uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo. Durante le indagini è stato anche accertato che un'altra delle attività criminali su che era dedicata, Cosa Nostra di Vittoria, era all'abbiegato compiendo una serie indeterminata di furti di capi di bestiame, in molti casi intere greggi di animali ai danni di aziende di allevamento di varie province siciliane. I furti venivano commessi da calabresi su indicazioni ricevute da basisti locali, con successiva ribendita del bestiame proprio in Calabria. A Sibari le fiamme gialle hanno denunciato un impiegato con l'accusa di peculato e falsità in atti. A Sibari, in provincia di Cosenza, la Guardia di Finanza ha eseguito un'ordinanza applicativa di misura cautelare contestuale, decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche per equivalente emessa dal Tribunale di Castrovilleri nei confronti di un 66enne quale incaricato di pubblico servizio inorganico all'ufficio ragioneria del comune di Trebisacce, sempre in provincia di Cosenza. L'attività eseguita rappresenta l'epilogo di una complessa indagine espletata dalle fiamme gialle sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovilleri e si è conclusa con la segnalazione a piede libero del funzionario pubblico per i reati di peculato e falsità in atti. È stato acclarato infatti come il dipendente, sfruttando la sua carica presso il comune con compiti di predisposizione dell'elaborazione del bilancio e elaborazione delle retribuzioni del personale, emissione dei mandati di pagamento per l'accreditamento dei salari e per le società finanziarie relativamente al quinto dello stipendio, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, abbia contratto dei finanziamenti personali con i medesimi istituti, eppur operando sulla propria busta paga la corrispondente ritenuta mensile del quinto della retribuzione indicando il versamento della rata alle società finanziarie, ha sfruttato il suo incarico per accreditare sul proprio conto corrente lo stipendio omettendo di decurtare il valore delle rate dovute. Conseguentemente, dal mese di marzo del 2013 al mese di agosto del 2016, avendo per ragione del suo ufficio la disponibilità di denaro dell'ente e contare stratagemma, aveva posto a carico del comune di Trebisacce il costo relativo al versamento delle rate personalmente dovute appropriandosi di un importo complessivo pari a oltre 14 mila euro. I finanziari, oltre a notificare all'uomo la misura cautelare, hanno posto sotto sequestro beni del dipendente infedele fino a concorrenza dell'importo pari alla quantità di denaro sottratta alle casse pubbliche. L'11 giugno un notevole numero di cittadini votanti si recherà alle urne per rinnovare 81 amministrazioni comunali in tutta la Calabria. Tra questi c'è anche la città di Catanzaro. Sono complessivamente 81 i centri della Calabria in cui l'11 giugno prossimo si voterà per le elezioni comunali. L'eventuale turno di balottaggio avrà luogo domenica 25 giugno. Saranno 392.855 gli elettori calabresi chiamati alle urne. Tra i comuni chiamati al voto c'è il capoluogo di Regione, Catanzaro, che torna alle urne alla scadenza naturale del mandato e che impegnerà 75.557 elettori nelle 90 sezioni sparse sul territorio comunale. Nella provincia del capoluogo i comuni in cui si voterà sono complessivamente 17, ossia a Botricello, Caraffa di Catanzaro, Catanzaro, Cenadi, Centrache, Cerva, Isca sullo Ionio, Maida, Montauro, Olivadi, Petrizi, Platania, San Pietro Apostolo, San Vito sullo Ionio, Satriano, Sersale, Settingiano. In quella di Cosenza 25, tra cui due, Paola ed Acri, che hanno una popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Gli altri comuni chiamati al rinnovo della propria amministrazione sono Amantea, Belsito, Bisignano, Carolei, Carpanzano, Castoregio, Cellara, Fagnano Castello, Longobucco, Lungro, Luzzi, Marzi, Mormanno, Panettieri, Pietrapaola, Plataci, San Vincenzo la Costa, Saracena, Spezzano Piccolo, Trebisacce e 30. In quella di Reggio Calabria 23, tra cui il più grande Palmico, con oltre 15.000 abitanti. Gli altri sono Antonimina, Bagnara Calabra, Vivongi, Bovalino, Bova Marina, Calanna, Campocalabro, Caraffa del Bianco, Caulogna, Ciminà, Ferruzzano, Grotteria, Laganadi, Motta San Giovanni, Placanica, Portigliola, San Luca, Santo Femme d'Aspromonte, Staiti, Terranova, Sappo Minulio, Barapodio, Villa San Giovanni. Elezioni annullate nei comuni di Gioio Tauro e Laureana di Borrello, commissariati l'11 maggio per infiltrazioni mafiose. In provincia di Vipo Valenza 14 comuni chiamati al voto. Arena, Brognaturo, Capistrano, Fabrizia, Filandari, Filogaso, Franca Villangitola, Ionadi, Pizzo, San Costantino Calabro, San Nicola da Crissa, Spadola, Stefanaconi, Vazzano. Ed infine, solo due in quella di Crotone, Ciro e Rocca Bernarda. Grande entusiasmo e partecipazione per il raduno delle auto d'epoca che si è tenuto a Cittanova in provincia di Reggio Calabria. E' tornato anche quest'anno uno degli appuntamenti più gettonati della piana di Gioia Tauro, il raduno di auto d'epoca. Un evento ospitato dal comune di Cittanova che ha visto una straordinaria adesione. Le auto hanno sfilato lungo le principali vie della cittadina. L'obiettivo è stato quello di creare un evento dedicato a chi ha la passione per le auto d'epoca e fare così un tuffo nel passato attraverso le auto che hanno fatto la storia. All'evento hanno aderito più di 80 mezzi appartenenti a oltre 10 club sparsi in tutta la regione. Entusiasmo per l'iniziativa che unisce tutti gli appassionati calabresi e non solo. Sono contentissima. Oggi le proloco sono in festa in questi paesi. Stanno organizzando coincidenza giustamente perché sono manifestazioni ormai storicizzate. Però qua nell'arco di 15 chilometri ci sono tre proloco che stanno manifestando alla grande. 2, 3, 4 giugno c'è una grande manifestazione di queste associazioni. Che dire? Che sono importanti le associazioni proloco per il nostro territorio. Perché senza di loro non ci sarebbe stato tutto questo. Penso che sia una bellissima giornata che è ricca di soddisfazione per tutti coloro i quali ci hanno lavorato e anche per tutti i cittadini cittanovesti. Una soddisfazione che dà anche un volano turistico a questa cittadina. Eh sì, perché la presenza in questi tre giorni legati alla Floreale, a tutte le iniziative che ruotano intorno alla Floreale, fa sì che Cittanova in questo momento sia un punto di riferimento. e completa un'attività e questa manifestazione a cavallo tra un lungo inverno di attività importanti che sono state fatte circa 40 eventi tra attività teatrali, stagioni, concerti e vedicendo e il giusto passaggio con l'estate che deve avvenire con un nuovo programma di iniziative che caratterizzeranno sempre la nostra comunità. Per il momento dobbiamo festeggiare il nostro club di auto d'epoca che pure l'ho fondato io e che da parecchi anni che stiamo lavorando e che cerchiamo di portare avanti questo ramo di cultura perché le nostre auto che sono iscritte all'ASI costituiscono beni culturali. Noi siamo aggregati all'ASI che è l'automotocoribre storico italiano con sede in Torino e quindi siamo entusiasti di queste iniziative che riusciamo a fare. Devo ringraziare i miei collaboratori che mi hanno dato una grande maniera d'aiuto perché uno da solo non riesce a poter fare queste cose perché siamo circa 50 tra auto e moto d'epoca. E' stato presentato a Pizzocalabro in provincia di Vibo Valencia il nuovo numero della rivista Terra da Mare. La rivista Terra da Mare è un periodico dell'omonimo consorzio che riunisce numerosi operatori turistici e comuni calabresi. Il nuovo numero è stato presentato ufficialmente nel corso di un incontro al castello Murà di Pizzo, una scelta non casuale ma legata al particolare che questo centro, che rappresenta un'eccellenza del turismo in Calabria, è lo scenario scelto per la copertina. E così Pizzo appare in una bellissima immagine che fa da simbolo per questo numero dedicato all'estate 2017, una scelta, quella della redazione di Terra da Mare, che per Pizzo rappresenta un ulteriore conferma della cresciuta capacità attrattiva della città e delle sue risorse paesaggistiche. Il consorzio Terra da Mare sta realizzando ottimi risultati e quest'anno, con questa nuova rivista, propone ancora momenti importanti per la promozione turistica calabrese. Sì, stiamo percorrendo una strada che abbiamo tracciato già da cinque anni e stiamo pian piano arrivando agli obiettivi. La cosa molto importante è che ci sta a cuore, a parte il nostro stare insieme per ragioni di carattere anche economico, è quello che stiamo puntando a una riscoperta del nostro territorio con un'offerta strutturata, con un'offerta che non richiede un grande apporto da parte del pubblico, lo stiamo facendo interamente noi. La rivista Terra da Mare oggi è una guida turistica dei nostri paesi e infatti lì andiamo a pubblicizzare a parte del paese le abitudini, le tradizioni, i piatti e il folklore perché no. È uno strumento che ci consentirà, perché lo abbiamo rilevato poi dagli apprezzamenti che abbiamo avuto dai nostri turisti, dagli ospiti delle nostre strutture, ma soprattutto lo abbiamo avuto da un sacco di associazioni fuori dal nostro territorio e l'interesse che c'è oggi verso questo consorzio, quello che sta sviluppando in termini di promozione, lo stiamo vedendo anche con adesioni da parte di imprese e di associazioni fuori dal territorio valabrese. Quindi è indice che siamo interessanti, stiamo facendo un buon lavoro, ci proponiamo di valorizzare sempre più questo territorio, aiutando anche chi viene da noi a poter goderne con delle escursioni guidate completamente gratuite che fanno sì che questo territorio rimanga in mente a coloro i quali vengono da noi. Concludiamo con lo sport, precisamente il tennis si è conclusa a Reggio Calabria, l'amichevole fra Italia e Inghilterra Under 14. Non contava il risultato, ma la preparazione in vista di match in cui l'importante sarà davvero vincere. È stato comunque un incontro di caratura internazionale, quello fra le rappresentative Under 14 di Italia e l'Inghilterra, disputato sui campi in terra battuta dello Sport Village Gattona di Reggio Calabria. I giocatori si sono alternati nei vari incontri, sia in campo maschile che in quello femminile. L'occasione per i tecnici di lavorare al meglio e per i giocatori di preparare il trofeo. Carlo Stagno dal Contras, torneo di massimo grado nelle competizioni giovanili che si svolge a Messina. È un'amichevole voluta con la Federazione della Gran Bretagna, proprio appunto per continuare il processo formativo dei nostri ragazzi, ovviamente in condivisione anche con una nazione a noi vicina e amica, e ovviamente anche in preparazione di un torneo importante come quello di Messina, che è un torneo di prima categoria, l'unico torneo in Italia di prima categoria, quindi stiamo provando anche a prepararli al meglio. In previsione il torneo Stagno dal Contras a Messina, che è un torneo che ha la sua importanza e i nostri ragazzi sperano di poter far bene. E per oggi è davvero tutto, io vi aspetto domani a partire dalle 11, sempre qui sul canale 90 del Digitale Terrestre. Grazie per essere stati con noi, auguro a tutti una felice serata. Grazie per essere stati con noi,